L'Istituto Vincenzo Bellini di Caltanissetta diventa conservatorio statale ad annunciare la notizia allo stesso presidente Andrea Milazzo durante una conferenza stampa insieme al direttore Michele Mose e al vice direttore Angelo Licalzi. Viene disposta dunque la statizzazione dell'istituto che sarà completata a tutti gli effetti sia per quanto riguarda ad esempio i dipendenti o gli studenti a decorrere dal 1 gennaio 2023. Proseguirà comunque il rapporto di collaborazione con il libero consorzio comunale di Caltanissetta come nel caso della concessione dell'uso gratuito da parte di quest'ultimo dei luoghi dove assede l'istituto. Ormai il decreto è stato registrato dalla Corte dei Conti per cui la nostra istituzione da oggi viene denominata Conservatorio Statale di Musica Vincenzo Bellini Caltanissetta. Quindi de facto Caltanissetta diventa sede di un'istituzione universitaria statale, un avamposto dello Stato per l'alta formazione artistica e musicale e per quanto ci riguarda chiaramente un grandissimo riconoscimento dell'attività svolta, del valore artistico e accademico della nostra istituzione che chiaramente si consolida anche con questo riconoscimento. Il personale sarà integralmente pagato dallo Stato, noi beneficeremo quindi di un fondo di istituto il che consolida unitamente la buona gestione che il Conservatorio ha avuto negli anni e chiaramente il valore dell'istituzione anche da un punto di vista finanziario. Ma quel che più conta è che in un territorio come quello di Caltanissetta, da sempre purtroppo tendente a spopolarsi di istituzioni pubbliche, l'istituto Bellini inverte la tendenza e si insedia quale istituzione statale in questo territorio. Questo per noi è un motivo di grande orgoglio e di grande soddisfazione perché proprio la bellezza e l'arte contribuiscono e concorrono a riqualificare il territorio secondo un motto che non è più teorico ma a questo punto diventa concreto grazie alle nostre azioni. Un cambiamento che permetterà di ampliare l'offerta formativa. La statizzazione per noi è un grandissimo evento quindi ci permetterà quello di ampliare la nostra offerta formativa con nuovi corsi, cioè corsi di dottorato, corsi di master, ampliamenti dei corsi curriculari esistenti. Tanto è vero che già oggi grazie alla statizzazione ci hanno permesso di allargare la nostra pianta organica e abbiamo due nuovi corsi, quello di eufonio e quello di composizione.